I lipidi, componenti fondamentali delle membrane che circondano la cellula, sono un gruppo di sostanze organiche e insolubili nell'acqua, di origine animale e vegetale. Differenti tra di loro, ne esistono circa 500 tipi, in grado di conservare e liberare energia, 9 chilocalorie per grammo. Tra i lipidi più comuni ci sono i trigliceridi, composti da 3 molecole di acidi grassi e una di glicerolo. I trigliceridi costituiscono la forma di accumulo del grasso negli organismi e a causa della loro insolubilità nell'acqua formano delle goccioline che si depositano all'interno delle cellule adipose, costituendo una ricca fonte di energia. Il tessuto adiposo o organo adiposo è composto dagli adipociti, ovvero migliaia di cellule presenti in tutte le parti del corpo in grado di immagazzinare, sintetizzare e mobilizzare i grassi. Esistono diverse tipologie di grasso che in funzione dell'area del corpo in cui si trovano, al colore e alla composizione chimica, variano il loro grado di ossidazione. La prima tipologia è definita tessuto adiposo bruno, con funzione principale di termogenesi, ovvero regolare la temperatura del corpo. Il tessuto bruno è presente solo in piccola quantità e in zone ricche di vasi sanguinei, come ad esempio nella zona interscapolare, intorno ai reni, al collo e in alcune parti del midollo osseo. La seconda tipologia di grasso è definita tessuto adiposo bianco, che oltre a rappresentare la quasi totalità di grasso presente nel corpo, ha lo scopo di immagazzinare e sintetizzare i trigliceridi come riserva energetica. Il tessuto adiposo bianco si suddivide in intramuscolare, viscerale e sottocutaneo. Vediamoli nel dettaglio. Il tessuto adiposo intramuscolare è contenuto nelle fibre muscolari e contribuisce al volume totale della massa magra. Il grasso intramuscolare rappresenta la prima tipologia di grasso che viene ossidata per fornire energia durante l'esercizio fisico. Il tessuto adiposo viscerale o grasso intraddominale avvolge gli organi interni come fegato, stomaco, intestino e reni. Il grasso viscerale può essere dannoso per la salute, in quanto il suo eccesso potrebbe causare patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2 o semplicemente malattie legate all'obesità. Questa tipologia di grasso ha la caratteristica di essere molto vascolarizzata e, oltre ad avere una grande facilità di metabolizzazione, è anche immune dall'azione inibitoria della lipolisi da parte dell'insulina, che vedremo più avanti. Il tessuto adiposo sottocutaneo è posto al di sotto della pelle, in particolar modo nella zona addominale e nella parte inferiore del corpo, come cosce glutei. Essendo molto sensibili all'azione lipogenetica, e cioè accumulo di grasso da parte dell'insulina, il grasso sottocutaneo è l'ultimo ad essere utilizzato come fonte energetica e per questo motivo viene spesso definito come grasso ostinato. Scopriamo ora perché è così difficile liberarsene. In primo luogo cerchiamo di capire come funziona il metabolismo dei lipidi. All'interno della tipocita, la lipolisi, tramite enzima lipasi HSL, degrada i trigliceridi in acidi grassi e glicerolo. In seguito il processo della beta-ossidazione, che avviene all'interno del mitocondro, trasforma gli acidi grassi in acetilcoezima. Quest'ultimo prodotto verrà poi ossidato nel ciclo di Krebs per la produzione di ATP. Ma come funziona il processo della lipasi? L'HSL, dall'inglese hormone sensitive lipase, è l'enzima in grado di metabolizzare e ossidare i trigliceridi dal tessuto adiposo e dal muscolo scheletrico. Considerato il principale attivatore della lipolisi, la sua funzione viene attivata dagli ormoni delle catecolamine, che sono l'adrenalina e la noradrenalina, inibita dall'insulina. Il segnale lipolitico inviato dalle catecolamine viene ricevuto da specifici recettori chiamati adrenorecettori. Di questi i più importanti sono i recettori beta-2, responsabili dell'attivazione della lipolisi, e recettori alfa-2, inibitori della mobilizzazione del grasso. Questi recettori, a secondo della zona del corpo in cui si trovano, si distribuiscono in maniera differente. Il motivo per il quale è difficile rimuovere il grasso ostinato, nella parte bassa dell'addome, area di maggior accumulo per gli uomini, e nelle cosce e i glutei, area di maggior accumulo per le donne, è perché queste zone sono composte principalmente da recettori alfa-2. Un altro aspetto che rende faticoso lo smaltimento del grasso ostinato riguarda la scarsa circolazione sanguigna del tessuto adiposo. Di fatto, senza un'adeguata irrorazione del sangue, i trigliceridi mobilizzati, anziché essere utilizzati dai muscoli dal fegato per produrre energia, saranno nuovamente immagazzinati negli adipociti tramite un processo definito esterificazione. Quindi, per bruciare il grasso nelle zone ostinate, occorre mobilizzare in primo luogo i trigliceridi fuori dagli adipociti e di seguito aumentare la circolazione sanguigna, per poterli trasportare nel sangue e utilizzare come fonte energetica. Per far sì che ciò avvenga, è opportuno definire, oltre ad un piano alimentare, un esercizio fisico che attivi in maniera efficiente il processo della lipolisi. Secondo alcuni autori, l'esercizio anaerobico ad alta intensità è in grado di attivare una grande quantità di catecolamine, mentre l'attività aerobica consente una sfidazione massiccia di grassi, oltre che un incremento della circolazione sanguigna.